Il mio vecchissimo, il 14 agosto aveva il tapporto fino ai palloni e ci aveva freddo, mi è entrato qua, accompagnato da me e un altro ragazzo Luca, il mio compagno, due anni più piccoli, qua dentro, si emozionano, non era così, c'era un rispetto intorno e anche i braccioli dove si poteva ballare, ho entrato, ho accennato due passi di danza, gli occhi si sono fatti, si sono vaginati, li siamo fatti, bagnati, ha detto, let's go, let's go, io sono venuto a andare via. Lui è stato l'ultima volta che è venuto su questo lavoro.